sto di cuo girato in vetro dopo facciamo ancora più dopo facciamo parlare a zoom mattina vediamo un po' 1 2 dietro 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 li fai via 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 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 15 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 12 15 15 15 15 16 16 prenda prenda una bella cadrega no ho sbagliato io vaffancio aspetta un attimo come è la cala scagna lei eh come è la come è la la scagna questo che basta prima assieme poi io vieni diretti circondano io l'ho subito ah perché la che prega la scagna la parella la scagna la parella buon punto no no subito ah ah che non l'ha la scagna che non l'ha che non l'ha la scagna come siamo andati perché dite buona questa scagna no 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 che vuole per mostro pure se è stato no aspetta venga venga sono fumagalli venga prende una bella scagna venga venga scagna veramente che lei ha nel po' le mie la scagna la scagna è la sconti gino come è la maglia estremi eh marturotti come è che è la maglia estremi maglia estremi estremi rimedi che cagato anche mio ma te te sei al pastur al pastur si vede mettete un po' più eh devi sotto il cusciro non riesci a girare un po' di lato ascolta va bella aspetta si vede tutto il mestiere ma l'ho giustato io si è ah beh ripalla non ho scherzato rec la mia fatta opposta così rifate le fusioni vai si sveglia è morto faccia allegra sei morto faccia sorridente fai qualche faccia faccia da da pierda fai un'altra deve essere morto comunque di uno che spinge sul water apri gli occhi però di uno che spinge sul water con gli occhi aperti eh è bella è andata hai un altro motoro eh un'altra faccia faccia di uno che di uno innamorato non ce la faccio un'altra ah 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 è un altro originale è andata no non mi piace fai così faccia proprio la pesce puoi vedere come la pesce adesso ecco ah ah americano americano vai aspetta 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 cazzo che attori di merda che ci abbiamo più massimo non è per me non è per me non è per me ma c'era già vicino a me non so chi facciamo più il fregiuro a me non stai che ci sbaglia un pochettino css becchiaccio e poi faccio così quando faccio quel gesto qui così pu intervieni bravo città ok ciac seconda aspetta ciac seconda no no quando mi sono seduto che mi alzo qualcuno mi deve dare una spinta nero perché che poi anche alzi e dici ok 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 sbagliato No, 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 no. spostate un po' allora aspettate poi vai facciamo dai facciamo questa qua fate così Luciano non sei la madre 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 Grazie a tutti.